amici di gossip news ben ritrovati io sono nata e questa è una nuovissima pillola di gossip alex belli non è mica sparito dalla tv dopo l'esperienza al gfv anzi l'attore parmense è tornato nei panni di pupo per una sera nel programma di barbara d'uso la pupa e secchione dove ha ritrovato la sua amica artistica soleil che ve lo dico a fa ma quando si è messo in tasca al nostro alex grazie alle sue apparizioni in tv domanda cui si è cercato di dare una risposta sbirciando un pochino in rete ecco che cosa abbiamo scoperto prima di proseguire vi invito come al solito a supportare il canale mettendo un bel like registratevi cliccate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti vi ricordo anche che potete seguirmi nel canale telegram dove siete certi di non perderevi neanche una notifica ma veniamo a noi alex belli dopo la controversissima esperienza al gfv e tornato in tv come pupo per una sera alla pupa e secchione show appunto qualcuno forse non ne sentiva la mancanza io per primo dopo tutto quello che ha combinato nei reality di signorini sta di fatto che la nostra barbarella d'urso lo ha voluto ebbene sì come quarto giurato per una sera nel suo show per fortuna per solo una sera qui ha ritrovato la sua amica artistica soleil sorge o sorge che dir si voglia ma non solo ha rivisto la sua ex fidanzata mila suarez e suo miglior amico mirko cangitano insomma una bella rimpatriata tra luce vino tra luce mica tanto vino come se non ci fossero domani alex comunque sia nel bene o nel male continua a fare parlare di sé molti si chiedono quale compenso percepisca per la sua apparizione in tv personaggio assai controverso in questo momento e comunque all'apice della popolarità proprio grazie al gfv di signorini ragazzi benché ne diciamo è al top della sua visibilità sbirciando in rete si possono anche trovare i suoi presunti compensi nulla di ufficiale sia chiaro ma quanto riportato potrebbe essere molto vicino alla realtà indubbiamente i suoi cash sono molto alti questo non c'è bisogno che ve lo dica io ad esempio per la sua partecipazione al gfv avrebbe guadagnato circa 5000 euro a settimana ma di base poi ci sono le ospitate eccetera eccetera oltre a questo vanno considerate le varie sponsorizzazioni le ospitate in tv seguita appunto a reality di signorini prima da tutti verissimo la puba secchione e tutti gli altri programmi le iene eccetera eccetera in sostanza il nostro alex grazie a reality di canale 5 si è messo in tasca un bel gruzzoletto facendo un pochino i conti in tasca l'attore in tutto si sarebbe portato a casa qualcosa come 240 mila euro solo in questo frangente sia chiaro è insomma il triangolo amoroso messo in piedi insieme a delia e soleil gli ha fruttato parecchio vedete che il poliamore è paga paga il poliamore raga solo se sei alex belli ovviamente da contare anche che grazie alla visibilità e la popolarità ottenuta con il gfv ora viene chiamato anche in tanti programmi tv come per esempio pupa secchione dove l'abbiamo appena visto ma non solo da dire che la nostra soleil non sembrava avere gradito molto la presenza di belli seppur solo per una sera gli giravano un po gli armenicoli e i due si sono ritrovati fianco a fianco proprio in giuria dopo quanto accaduto tra loro il gfv la loro alchimia la loro amicizia artistica la loro amicizia alchemica o quel cavolo che è stato si è dissolta in un batter d'occhio una volta terminato il reality qualcosa ce lo faceva pensare insomma la nostra soleil ha accusato il suo compagno di merende di averla usata rilaglie con sta storia ma ancora il pubblico si domanda chi sia stato veramente ad usare chi ragazzi ognuno usa qualcun altro i due a detta di molti sono sempre stati molto complici sin dall'inizio del famoso teatrino teatrino che non vi sto qua a raccontare perché lo sapete meglio di me nessuno quindi è vittima di nessuno anzi alla fine ci ha guadagnato un botto di soldi tutti e quello il fatto forse le uniche vittime siamo noi telespettatori che abbiamo dovuto sorbettarci questo immenso becero teatrino vabbè c'è anche da dire che la migliore amica di soleil ovvero diane mello perché le due sono molto amiche non ha fatto mistero di non apprezzare per nulla al nostro alex si vabbè vabbè la modella brasiliana conduttrice di pupa party perché c'è anche pupa party io non lo sapevo ora l'ho scoperto il format che commenta le vicende le dinamiche della pubblica e show perché non basta la pubblica e show c'è bisogno anche di un nuovo format che commenta le minchia le dinamiche del reality diane mello dicevo ha dichiarato di non essere molto contenta della riga in trasmissione di alex perché dillo perché vabbè hanno lo dice lo dice tutto perché a detta di diane mister belli avrebbe umiliato soleil non mi sembra che soleil sia una che ama tanto farsi umiliare mi sembra maggiorenna vaccinata è in grado di difendersi da sola vabbè un'uscita che non è piaciuta per niente al nostro super alex che ha replicato per le rime alla modella brasiliana indovinate dove ma su twitter ovviamente perché è la seconda casa di alex e twitter ormai vive lì l'attore in sostanza ha dato della doppio giochista e della ipocrita a diane visto che a detta sua lei parlerebbe male di lui davanti alle telecamere per poi salutarlo in privato per la serie ciao alex come va alex ti voglio bene alex ho fatto così una roba del genere vale mica solo diane melo fa così e poi ragazzi non c'è bisogno di andare nello show biz anche nella vita normale c'è gente che parla dietro le spalle lo sappiamo molto bene insomma quando si parla di alex belli non si può mai stare tranquilli intanto comunque tra un'apparizione e l'altra lui continua ad aumentare il suo gruzzoletto e aggiungo anche al di là di tutto da considerare che alex ha anche una società di produzione lo sapete no la ex b production tra l'altro logo di questa società appare in molti programmi tv in molti servizi quindi è giù lavoro anche in quel caso quindi non dimentichiamo che oltre al denaro cash contante c'è anche poi il guadagno è derivato da dal lavoro che fa con la sua società di produzione mi viene da chiedere che tipo di lavoro faccia mi informerò poi vi farò sapere benissimo ragazzi vi ho raccontato i presunti vi ricordo guadagni di mister alex solo nell'ultimo periodo e poi nell'arco della sua carriera non vi so dire che cosa comunque vi hanno stupito queste cifre ve lo aspettavate vi aspettavate vi aspettavate qualcosa di più vi aspettavate qualcosa di meno vabbè 240 mila euro per andare a fare per andare a fare le minchiate al grande fratello vip forse ci farei un pensierino anch'io non so non so tutto da vedere comunque raga qui sotto c'è lo spazio per i commenti fatemi sapere che cosa ne pensate al proposito per il resto lo sapete mettete un like sotto questo video restate per canale cliccate la campanella e vi ricordo ancora per l'ennesima volta che se mi seguite anche nel canale telegram trovate qui sotto alla mia destra il link oppure qui sotto in descrizione siete sicuri di non perdervi tutte le notifiche di tutti i video che faccio ma anche molto gossip e molto trash in più in più in più benissimo ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao bedazzi ciao 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 ciao